Benvenuti a tutti in questo nuovo video mi piace qui sotto nella campanellina facciamo un gioco particolare americano con i bicchieri si prendono 6 bicchieri nella base poi attaccati poi se ne mettono 2 sopra e uno qua la prima cosa che dobbiamo fare prendiamo il bicchiere con la mano destra lo spostiamo e lo mettiamo dentro prendiamo un altro bicchiere lo mettiamo qui dentro e con la destra mettiamo quello là che era là e facciamo così adesso vi faccio fare vedere la parte più veloce questo non ci riesco perché cavolo è un po' difficile guardate vedi devo fare per forza così e così scende allora parte più veloce vado eeeet ecco io non ci riesco tanto perché questi bicchieri non sono della guia ah questi bicchieri vengono comprati tutti i supermercati con 50 per cento con 50 bicchieri per 50 cioè 100 bicchieri adesso la facciamo da più cioè da 6 adesso la mettiamo qua adesso la facciamo da 6 ne servono tanti più come bicchieri perché è un po' difficile oggi mi sono messo pure l'apparecchio cavolo avete visto bene vabbè eeeh ok sbighiamoci perché adesso sono le 11 di notte cavolo eeeh eeeh non sono scemo mi raccomando al cuore prendo sempre tutti i punti ma dai sono quasi finito dai buon eeeh abbiamo quasi finito è un po' difficile vi raccomando è difficilissimo ah guarda questo è un po' complicato piccando non mi raccomando manca l'ultimo ecco di sicuro mi cad mi cad mi cad mi cadranno tutti e poi mettete 90.000 like adesso comincio ta 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 cavoletti è impossibile tan 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 pam 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 ok eeeh abbiamo così finito lo rifaccio che vi faccio vedere da 5 stavolta e poi da 4 adesso da 5 poi mettete poi dovrete imparare da qua perché non li trovate ah io ho imparato dei cartoni su Diki 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 e eeeh dom dom capito è un po' è un po' difficile da fare che avevo vinto Diki poi di che avevo perso e vabbè adesso parto vado tan 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 cavolo tan tan bom adesso da 4 e no ho sbagliato adesso devo andare mia madre mia madre mi chiama capito eeeh chiama eeeh mia madre mi chiama e devo andare Giacomo e lo so un po' la vicina di maetta però devo andare ciao a tutti eeeh